Buonasera, merda la cam Scusatemi, scusatemi Eccomi qua, eccomi qua Allora, una live un po' improvvisata questa Io questa live non la volevo fare anche perché ho tante altre cose da fare in realtà oggi tra cui, cioè, appunto, la live con Cold più tardi, però eh, scusatemi, mi hanno dato palward in anteprima, cosa faccio? Aspetto domani? Anche perché domani sera Eh, oddio, questo qua che cos'è? Ah no, niente, ok Ho ricevuto una mail d'aggiornamento Eccomi qua Sono un po' incasinato con i giochi da giocare adesso, porca paletta e quindi, niente, palward poi lo giocheremo venerdì sera con Lino, Francesco e Karim Però, oh, me l'ha dato prima Che cazzo faccio? Lo butto via? Quindi, io direi di provarlo subito e via Sono contento Allora, sono contento fino a un certo punto perché, porca di una miseria Eh, sono Ah no, ma sono l'unico ad averlo Io pensavo l'avessero dato a tutti Cioè, qui tra i miei amici, vedo Lino dice che non vede loro di giocarci Ma, scusatemi Ma l'ha andata solo a me, sta chiave? No, ma non è domani sera Domani sera Seguiamo la live di Microsoft Esce venerdì il gioco Guarda, Cog Posso immaginare che sia una stronzata Sto guardando che nessun altro stesso Ma ci sono io nel mondo Un po' strano però Malward No, ok Non sono l'unico Fortuna Sto streamando tutta Twitch Sì, sì, posso streamarlo Bene Partiamo allora A me non è andato niente Di avviso Non mi ha detto un cazzo Quindi Dai All'italiano Non lo sapevo E soprattutto Non me lo aspettavo Ah, qua le opzioni L'ho già messa L'audio com'è? Direi che sembra ok Via Ah, devo per forza Creare un server Classicissimo ormai Ah, lo creo già multiplayer Così posso invitare Gli altri poi Oh, vabbè Sì No, esci venerdì Ok 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 Posso averlo col cazzo? Ok Grazie Però Mi stona un po' la testa Giusto avere Allora La pelle Un po' più giallina Grazie Ecco qua Non è proprio giallina Non si può Ecco qua Un po' etterica Grazie Oh, non ho ringraziato nessuno Grazie a Jack Priviti 5 mesi A Jazz Buster Per gli undici E Neuromante Per il trentanove Eh Sì Mi stona un po' questa faccia Che stacco Ah Beh Sì Eh 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 Ok Non Belli Gli occhi di gatto Così o così? Così dai Dove le sopracciglia Bianche No Non è No C'è qualcosa che non va No Ok Boh Non lo so Mamma mia Che facce brutte Vabbè Non posso avere un Oh santo cielo Ma è una merda Ma è chiaramente un corpo femminile Comunque Semplicemente Gli hanno Tolto le Le tette Boh Vabbè Capelli Siamo tutti Siamo tutti dal tondici Non lo sapevamo E che ne so io Bello Ma sono Tutti una merda Sti capelli Ma ne volevo uno Non sono soddisfatto Ultimamente Dai capelli Di videogiochi Ma è proprio Sbagliato Come corporatura Eh Sto signore T'è sbagliato Non vi sembra Tutto sbagliato C'è Non La testa è troppo grande Non si può Rimpicciolire un po' La testa Non si può Eh Boh Eh vabbè Lui è Che dobbiamo fare Sì sì Ho capito Le torri Sono la chiave Trova le tre Per la verità Oh Merda I suoni di Zelda Ho visto anche La barra del calore Di Zelda Tra l'altro Guarda la barra del calore Ma è identica A Zelda Vabbè Edificazione Sì Però non Mi metto Ottieni il Lemio Sì Vabbè Ah per adesso Cos'è questo? Spostamento rapido Sbloccato Legno Legno Manuale di sopravvivenza Apri edificazione Ma non posso Qui Scusa Si può abbassare Giusto un pelo Gli effetti Dell'interfaccia Ecco qui Ecco qui Ok Volevo guardarlo in faccia Ma ok Un po' di risorse Ok No dai È morta la gente Ok Mi spiace Ho un dispositivo D'antica civiltà È veramente Zelda Non è Pokémon È Zelda Ok Parla diretto Posso pettarlo Ai punti di statistica Inutilizzati Minchia È ARC E come Sblocco questa cosa qua Punti tecnologia Sette Ok Fuoco da campo Direi che è essenziale Ah per catturare i pal Ok Il box E il forziere Ah ok Mi ha dato abbastanza punti Per sbloccare tutto Perfetto Potenza statistica Ecco qua Mettiamo la resistenza È proprio ARC Finora è ARC Finora stiamo giocando Proprio a ARC Ciao Q Ah mi metto qua A fare il banco da lavoro Come si fa Ah Ok Realizza una sfera pal Però non posso Perché mi manca Il frammento di pal Dium E un sasso C'era il peso? Sì Come lo ottengo Il frammento di pal Mium Ascolta un po' Posso Non posso Craftare Dall'inventario Mi par di capire Mazza di legno Ah volevo il pikaki Infatti Eccolo qua Perché secondo me Per ottenere Il frammento di pal Dium Mi serve il pikaki Allora Un po' bruciato Qui eh Ehm Ah niente Non si può E ce lo teniamo Così Lamejack Non posso Chiederci A dirlo seriamente Andiamo a sparare A pikachu Ah non serve il pikaki Per fare queste cose Ok perfetto Grazie Grazie a Foursquare Per i dieci mesi E non ho perso neanche vita Come in Ark Cinque Arca Troia Ok Me ne servono Dieci Di pietra Che no Che dura Hai visto? Dragon Dragon Grazie per i 26 mesi Eh Lotta è super efficace Su roccia Sotto Le telecamere Ho le quest Sì Otto Ok Dieci Perfetto La tua sinistra Che prima Va bene Non importa Allora Facciamo il pikaki E Sì E lascia Bom Io nel dubbio Mi faccio anche la mazza Non si sa mai Ok Bom Allora Per cambiare Cosa Così Me ne ha messi In un inventario Ok Perfetto Che mi manda L'Alessandra Che cos'è? Ah Carino Il pacco di Amazon Ma Ho ricevuto mail No Puoi aprirlo Amore? Sono le mirette Non era chiuso Oh no 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 Apri Apri anche Il cartoncino Intanto vado Col pikaki Che sia un regalo Per cosa? Ah La barra della fame Quella lì Ok Legno Mi serve Cioè Non so se mi serve Però per Non anche Ah no Aspetta Guarda Allora Queste sono le bacche Il frammento Di pallium Ma quindi Non lo devo Minare Il pallium Ah Mi ha dato Il pallium Anche con Il minare Minchia Minchia se Ark Porca troia Porca troia Un set Hai comprato Quindi si Sono le mirette sií Eh Dicevamo Comunque Si ottiene Con Questo Giusto Fammi vedere Che non ho visto Pietra E un frammento di Paldium Però me lo dà dopo un bel po' Ok Dov'è la clava? Non l'ho raccolta Sì, sì, esce su Game Pass, ragazzi Ok, fammene tre Che coglioni Ok Arco Antiquato Letto Mediocre Letto di Paglia per Ipal Stoffa Bene Adesso Come tiro fuori la Pal Ball? Ah, con la Q Con la Q di lancia Ce n'era uno piccolo qua prima Era rosa Eccolo là Ah, ecco qua altre Cazzate, Pal Che è? Fabiao Aspetta eh Che prendo anche questi È cattiva Com'è cattiva? È maschia Vieni qua Vieni qua Vieni qua Cattiva Vieni qua Guardate Tiè Ok Ok Però sta male Cioè come faccio a curare cattiva? La vita torna su da sola? Ah, devo creare la mia base Ok Eh, dove me la faccio la mia base? Qui mi piace in realtà In questo posto qua non è male Qua sotto Devo giusto togliere un paio di alberi Qua tipo, veniamo C'è una mappa Ah, figa Sì Bella grande anche Ok Qua voglio metterlo Qua voglio metterlo Solo che qua Io non posso Craftare nulla Facciamo così No L'ho persa? Eh, ho sbagliato tasto Niente Va bene Edificazione Allora Fammi il banco da lavoro Ne mettiamo uno nuovo qua Ok Continuo a sbagliare i tasti Ah, mi dà una mano anche Carino Ok E devo fare Eh, cazzo Il box dov'è? Costruisci un box per palli In uno spazio adeguato Ah, così Eccolo qua Il box per palli Non posso Come la pendenza Si sovrappone? No, no, no Qua, qua, qua Ok Dai Lo facevi qui Ah, sì, mi ricordo Non fare il merda Ma che la pendenza? No Eccolo qui Carino che fa lui Denom Undici mesi Buonasera Buonasera a lei Grazie mille Ok Ok Questo lo posso mettere qui E lo perdo Però io non lo voglio perdere Teniamolo Ok Missioni Edifica forziere di legno Ok Aspetta Cos'era? Missioni? Fai lavorare un pall Nella base E come si fa? Usa il box per pall Per far apparire i tuoi pall preferiti Nella base Io non ho capito Ah, ok Pall nella base Ok Eccolo qua E ne posso mettere uno E che cosa fa? I pall senza letto Saranno scontenti Certo Ah, lui lavora qui adesso Perfetto Eh, li devo farla a casa Allora Aspetta Ok No Così Forziere Lo chiedeva la quest Quindi lo faccio La fai tu? Perfetto Grazie Ehm Se ne occupa lui Il letto Per lui Perfetto E adesso qua Mi faccio il letto Per me Butto giù questo Ma sono schiavi? No, vabbè Perché si collabora Non ho della lana Ok Come si fa la lana? No Ho richiesto Scegliere la ricetta Non ce l'ho la lana Ok Sfamati Quando sai di livello Apri Inventario Contab Potenzia il giocatore Eh, l'ho già fatto Cattura Cinque Lambal Che fa Lui? Ok Dov'è andato? Dov'è andato? Allora, lui è un cattiva Ah, i lambal Sono questi Che mi darà la lana Immagino Ma Scusami Lui Che cos'è Che sta facendo Adesso? Ok Ok Un gatto Disposto a tutto Pugni rotanti C'è Che cosa sta combinando? Premi F Che mi dice la F? Su di lui? Ok Cosa ha preso adesso? Non so Star con le risorse Eh, ma posso decidere Quali risorse deve prendere? Ah no In generale Quello che trova Questa è una cattiva femmina Ok Ah La vita torna su da sola Ho capito Ma che cotte Buona Devo Lo fa lui? Cioè se ne occupa lui Di cucinare anche? No Lui ha avuto un'idea Com'è che era per lanciare? Ok No Cucinare Niente Faccio io Capito Ma Cosa sto facendo? Pollo e Uova Ma Perdonatemi Come Stracazzo fate A farmi Backsitting Su un gioco Che non è ancora uscito Cioè io Veramente È assurda Questa cosa La tecnologia Da due giorni Ormai si sa tutto Quindi questo vi giustifica Non leggere le merda Di regole Allora Cos'è questo? Semi di bacca Per piantarla Giusto Che sta facendo Miau? Cosa sta succedendo? Ah però lui sta colpendo qualcosa Vedi? Cioè non so cosa Ah la roccia Ascolta ma Perché non questa? Ho freddo Eh stiamo qua Allora Fammi vedere un attimino Ah posso farmi giustamente la casina Il banco per riparazioni Oh Ma che carino Eh io non posso dormire però Ehm Volevo 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 Salire di livello No Volevo All'attacco Eh Tipo Questi non sono male Mangiatoia Ah buono anche questo Lancia di pietra E basta Ormai ho fatto Boom Allora Mangiatoia Giustamente La metto qua vicino La costruisco io Dai Disponente per play 5 Credo che In scamulti piatta Però non vuol dire Cazzate E devo mettere dentro le bacche Ok Giustamente Perfetto Poi Ehm Basta Non ho altro Che potevo fare No Mi devo fare i vestiti Magari per il freddo Però per i vestiti Mi serve la stoffa Ma per la stoffa Mi serve la lana E per la lana Mi serve la pecorella Grazie Robby Per il ride No esce su game pass Però non so se esce su game pass Cioè non so se esce anche su console Ah Questa zona blu È la mia È la mia zona Presumo Posso fare una torcia Sì E c'è solo su xbox Non esce solo a play Meglio Ok Allora Che discesa Di là Non ho fatto altre sfere Però Eh Un po' una merda Dal fatto che Gli oggetti qui Si Cioè mi segni Il banco da lavoro E non Cioè scusami Il tavolo Vabbè avete capito Non ricordo neanche quando esce su xbox In realtà potrebbe essere pc only Eh Che è plausibile È il pvp dopo il lancio Sì Non ho idea di quanti pokemon ci si Di quanti palward ci siano Tony grazie per i sette mesi Eh Non ho più bacche però Ah Voglio provare A lanciarli E farli combattere Vediamo Eh E come si fa Lo mena Se lo meno io Ok Daggine daggine Ostia Ok Ci provo Azz Dai e dai e Ok Adesso va Boh Cinque me ne servono Lì c'è un Kitsipi Però adesso che ne ho preso uno Mi ha dato anche la lana Ok Me l'ha data Ma non so se me l'ha data Perché l'ho menato Ok Perché sei in danger tu Come metto via L'oggetto Forse per forza Una mano libera Ok Allora Ci metto un lambol Qui Che va a dormire Ok Ferite gravi Però adesso si riprende Immagino Ok Stoffa Ok Merda Solo uno ne faccio Ferite leggere I pal senza letto Saranno scontenti Eh certo Allora Mi serve del legno Però era qua Allora Allora No devo spostare Sta roba Non si può Che maroni Se mi serviva il legno Ok No Cioè No Sì Scusa Che non era lì Il coso Perché tre di dieci Scusa Ah perché ne ho solo tre Effettivamente Ah vedi Per cucinare Richiesto sputafoco Il lambol Mi da La 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 Allora lui è tipo normale Vedo Soffici scuso Assegnandolo alla fattoria d'allevamento Puoi ottenere la lana Mi dice Ok Però io non ce l'ho La fattoria d'allevamento Che cazzo è poi la fattoria d'allevamento? Eccola qua Perfetto Quindi vado semplicemente a catturarne altri adesso Il gotapalma è molla Puoi dare i nomi? Sembrerebbe di sì Ci pensa lui Ok allora aspetta già che ci sono Mi faccio un letto È Ark con i Pokémon Sì per adesso è Ark Anche se riuscire a ricevere i materiali Secondo me sì Però non lo so Grazie per la sfera pal No devo buttarlo giù questo Mi dà fastidissimo il fatto che non posso raccogliere le robe Mi spiace però è una merda Ok Vado a catturare l'altro Cioè ne devo prendere altri di quel tipo lì Lavorano al posto mio Ciao Pimpi Lavorano proprio al posto mio Come gli impiegati comunali Che è quella roba là? Potremmo vedere Non starò in live ancora tanto eh Perché Sto facendo questo Poi devo andare A mangiare E abbiamo la live Stasera Una live a cui tengo particolarmente Ho trovato del pane Ottimo Delle medicine Usa Su di me Grazie Perché parleremo di salute mentale Con Call Fantasma Ma non perdetevela Alle otto Cos'è questo? Una nota Lasciata da altri avventurieri E dove? No Aspetta aspetta C'è una scritta note Vabbè Come torno su? Ah si arrampica lui Anche qua? Oh Ok Quanto è bollò? Due Ah volevo anche una gallina Kick spee Vai No Non me lo uccide però Hello Hello Daniel How are you? Grazie a rogan per i 74 mesi Che succede? A cattiva sta combattendo con un altro Kikki Però questo glielo lascia uccidere E mi ha droppato la carne E un uovo Ok Mi raccoglio il materiale Cattiva? No How's the A? Oh It's Good Not bad Pretty interesting Ah no Niente 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 Vabbè Questo qui è bellissimo Ok Cronogrog Grazie per i 10 mesi Posso togliere il tutorial? Ci sarà un tasto per toglierlo Mi dà fastidio Ah si mi ricordo Perché ho catturato 30 pal Sono un botto EGGY Grazie per i 26 mesi Ok Edifica e letto mediocre Eh Ah aspetta Sai che forse posso farmelo adesso? Che ha? Ah Servono le fondamenta Fuuuck Perca troia Devo farmi la casa Vista baratro Eccola qua Mi sono discretamente cagato addosso Ma come si sovrappone un altro oggetto? Ma che mi dici? All'albero Aspetta Eh forse perché l'ascia non fa abbastanza danno Questa è la beta? Io non so se venerdì esce effettivamente o che Posso metterci? No non posso metterci la gallina Ancora Lo posso fare se mi piazzo il letto però Sarà una casa molto carina Però Ecco qua Adesso me lo fanno E scendere di asses Perfetto grazie papà 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 vi dovete togliere dai coglioni ecco qua perfetto mi sembra una qua bella che mai ok servirebbe un tetto tetto spiovente bello porca troia no come faccio vabbè ho capito il tetto spiovente non va bene tetto in legno classico eccolo lì benissimo allora ho punti inutilizzati perfetto e adesso posso fare così e potenziare la base e metterne dentro un altro ci metto la gallina e edifico un altro letto ecco qui posso farmi i vestiti adesso perfetto abiti di stoffa vai benissimo che mi puoi creare le bowl perfetto posso cucinare io uova al tegamino ne faccio due mi sembra un pokemon di fuoco e ho fatto come la traduzione in italiano ma mi sembra buona fino ad ora spedini di kitspi no il fatto che lo stile personaggio non con non corrisponda da fastidio anche a me anche perché sono belli affamati vedo ah no non particolarmente ti è è che scadono le cose vaffanculo vabbè ti è il pane anzi questo il pane me lo tengo io che boh oh grazie per farne altre altri sassi mi servono poi ce li ho mi sai sassi c'è un cazzo ma quello lì che sta andando in giro che cazzo sta facendo qua le ha messe le pietre perché le ha rotte e basta orca troia questo qui è un pezzo di merda i volanti ci sono allora ragazzi io non so più vi potete fare i cazzi vostri Henry grazie per i 26 mesi buona serata anche a lei io non so non vi ho chiesto niente mi lasciate un po' in pace per piacere allora shift e mettiamo giù metà lo sto scoprendo da solo questo gioco se ho bisogno vi chiedo cos'è denaro mi sembra che posso usare materiale direttamente dalle casse e no vedi ah no sì invece sì invece sì ok perfetto perfetto grazie non l'ho notato ok allora facciamo così scusami ma prima non l'ha fatto però con la legna con la pietra uscirà nel game pass di Golone Zaninotto c44 come un romanzo del collettivo di Woming come sta? tutto bene grazie molto bello per adesso arma danneggiata aspetta 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 cosa sta succedendo qui? me lo fai un arco per piacere? grazie mi serve del legno perché per fare del legno madonna vale la pena questo ragazzi ci sto giocando da meno di un'ora che vedevo di non lo so non lo so non ne ho la minima idea è la risposta più che altro vorrei capire se posso chiedergli di raccogliermi un materiale specifico però mi parli capire di no metti la mina grazie per i cinque mesi solo che mi sa che loro in realtà no ah ok posso metterlo a destrarre c'è il treno grazie a Raivank per i 38 mesi se io faccio così no però non me lo prende l'albero il pal può occuparsi di questa attività eccolo là magari altri pal possono ma mi pareva che prendesse anche del legno prima saluto il cazzo vediamo ah ok allora questa mi serviva ah vabbè vabbè no l'arco incendiario e la freccia non mi interessa in realtà allarme ok ok campo di bacche mi serve mi serve legno pochi cazzi e non riesco a capire perché non me lo raccolga è proprio uguale ad Ark sì per adesso è Ark cioè è veramente Ark comunque per ora quanti giga pesa? non tanti mi pareva una una decina una ventina spacchettato forse requisiti dice 40 allora forse una ventina scaricato si rompe l'arma certo non ho idea se il mondo cambio è uguale per tutti space grazie per i 40 mesi esce venerdì neanche io sapevo dell'italiano più che altro per fortuna che ci sto giocare un po' adesso perché se no hai voglia fare la live venerdì è che lei veniva con gli altri su sto gioco non mi dire non me lo fai mettere non farlo sterionzo ah perché serve per forza il collegamento con l'edificio qua ho capito cazzo cazzo e niente ups cos'è statua no non è fortnite proprio arc come mai qui non posso attaccarci la scala non gli piace e vedi qui ci devo prendere un altro oggetto si me ok perché che altro adesso non stanno più andando in giro a fare un cazzo no questa me la voglio tenere facciamo altri letti eh mi sembrano pietre e legno per le risorse vabbè se io dormo ho sbagliato se io dormo vado domani in teoria riu buonasera prime impressioni mi sta piacendo ah sì mi ricordo ah sì mi ricordo ho sbagliato ho sbagliato a fare roba ma però si ferma c'è qualcosa magari per estendere il mio dominio eh stavo pensando anch'io al limite della base però in realtà gli ho fatto gli ho fatto questa scheletta qui apposta ok no ho sbagliato qua dei carezoni li fanno e dei cate non prelevano in giro se non lo fai tu in primis ma non è vero l'hanno fatto loro fino adesso ok ah dici che non riesco a sedere dalla scaletta che palle vabbè no no ma ci sono i confini anche secondo me non escono da quelli il problema è che comunque scusatemi non scendono dalla scaletta che gli ho fatto poi che ci siano i limiti della base ci sta non puoi fare una rappa e gliel'ho fatta non la usano bacche oh questa era la mia che ho lanciato prima avevo una freccia una oh che pallura menane che menane che merda l'ho ucciso fermo eh mi sa di sì no non è morto però cioè non lo so è morto mi sembra morto a me sembra morto però non so se posso oh c'è il ragdoll eh no non gli piace niente no ok è rimasto lì è quel cadavere la ciao non la volevo ucciderla volevo catturare è morta è che ne so io comunque per adesso mi sta piacendo un sacco poi bisogna vedere quando inizieranno ad esserci i combattimenti affucilate però ce ne so perché basta 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 e allora vai non si può vieni via no vieni via ti ho detto ecco qua mi arrangio mi ammazza tutti aspetta che ho fame le bacche il gatto non mette capivoli di pokemon mi pareva di averlo appena detto però sì per adesso è molto meglio mio unico dubbio è quando diventerà super trash che bisognerà sparare in giro però per adesso è figo cioè le idee per me ci sono sono anche belle il problema è che è troppo arc questo per me è il difetto più grande attualmente cioè veramente arc quello che stiamo facendo sistema di cattura è sensato arma danneggiata fuck bello questo dinossom è drago erba sì che è identico a un pokemon di cui non ricordo il nome ma fa proprio la stessa roba ci ha manco provato a cambiarli è un gudra verde esattamente meganium con gudra eh sì sai che è un mashup c'è un vibe anche un po' da meganium mi intendo non dice nulla il fatto che si somigliano però non è una roba illegale quindi anche questo qua questo qui è il corvo quello col cappello ciccione c'è quello è com'è che si chiama Markrow no l'evoluzione Honkrow bravo sì vedi che oh finalmente stanno facendo vedi ecco qua bravi bravi holly vedi hai capito come funziona bravi loro non è della game freak beh ti sembra non è legno ah ecco le frecce le frecce cosa dovevo fare cattura 30 pal ostia ce n'è da lavorare qua eh pappa ce l'avete sì la fattoria bravi guarda che belli che sono ok allora intanto volevo seminare come si fa poi me ne servirà uno d'acqua per per irrigare pokemon non detiene diritti su qualunque mostro uccello col capello ho capito acitto però minchia fatica fatica irriga ah vabbè non lo può fare qualcun altro sto messiere qui ah vedi richiesto irrigazione quindi ne serve uno d'acqua credo tra l'altro è un 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 coso come si chiama quello dei pompieri ma che diventa un laghetto per davvero e adesso è la crescita ma è la crescita è più veloce della semina cazzo un po' troppo ok eh non ho abbastanza come non ho abbastanza legno non ho abbastanza legno non ne ho proprio minchia vabbè 13 19 chiudi si 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 minchia è volata quest'ora eh se ti servo prima scendo subito amore eh l'idrante non mi veniva il termine idrante grazie lui ricrescono anche gli alberi è pv come arc si non è ancora pvp però l'idrante è pronto perfetto ma che raccolgono anche allora ragazzi è arc più immediato è proprio un arc più più immediato ostia è bello grande questo ti lo metto qui non so se ci sta infatti non ci sta un cazzo qui ti devi togliere però sì ci sono le queste se devo catturarne 30 per adesso e arrivare al livello 7 della base do una mano e qui come funziona adesso cioè come ci metto dove è andato quello là come ci metto qua i i cosi ah fanno da solo i pascolo in corso ok ah tutti pascolano vabbò io glielo l'ho messo lì sapranno loro quello che devo fare si si autogestiranno è un arc più action no non è più action poi dopo si sparerà anche qui perché ci sono anche pure le armi però è proprio è più immediato perché Tami più velocemente in arc di rispetto ad arc il pollo è l'unico sfaticato che non sta raccogliendo materiale e nemmeno dava una mano a costruire come no dici che sta facendo roba c'è il martelletto sul pollo ci sarà anche il pvp si il pollo sei proprio tu più che altro la raccolta non può essere più veloce rispetto alla semina ragazzi sapete che mi sta proprio piacendo aspetta ah uno per volta ne posso buttare fuori soffice scudo nooo non so se uscirà anche su su ah vedi adesso raccolgono la lana il pollo forse fa le uova io non ho niente da dire tutto bello boom solo che non c'è salva giusto perché esco e basta perché è online no perché io sono lost presso figo 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 ragazzi mangio e ci vediamo tra un po' però